Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video io sono dei tv e siamo tornati in questo video Non lo so, non sapevo cosa fare Vabbè, facciamo così Mi raccontate qualcosa di voi? Beh, in te non potete perché sto facendo un video però Beh, eh Cosa è sto rumore? Beh, ehm Beh Niente Comunque non sapevo cosa fare Ho fatto così Stai ferma Eh, allora Mi è successo che sono andato in oratorio Poi ho giocato Sono tornato, ho mangiato Sono stato in bagno Non credo che ho entrato qualcuno Poi sono andato Ritornato Sono tornato Andato 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 Poi sono tornato E poi ho fatto cose Non pensate male, grazie Andato E poi basta Infine Questo era tutto quanto Se è il video vi è piaciuto Un bel pongere in su Commentate Eee Un saluto Pan No Quelli sono di Pantella Io sono iscritto a molti canali Sono iscritto al nostro caso Dexter A già Marco Zagato A VJ Marco Zagato A si A VJ Comunque lo trovate già Per quelli che mi seguono Beh Volevo dirlo almeno per una volta Beh comunque ragazzi Sto accadendo la cosa Sto aiuto Mayday Mayday Uomo a terra Abbiamo un uomo a terra Beh comunque Sto accadendo la La fotocamera Bene comunque ragazzi Io sono iscritto a Imates A VJ A VJ A VJ lo sapete Per quello che è successo Quello che vi avevo raccontato Quello di Quello ragazzo Di un po' strano Che ha detto che Quando A VJ Ha messo il video Mi dispiace Quello che ha fatto a Pietro Lui ha iniziato Ma Pietro non è nanna Per fare Così Pietro non è un culo Cosa vuol dire Vabbè Col video lì Ve lo linko Qua o qua Qua o qua No non è vero Almeno andate a cercare Sul mio Sul mio Sul mio canale E lo guardate Si chiama Come si chiama Non me lo ricordo Beh comunque Bene Il video Allora sono scritto I mates Vosokaru Dexter Giammarco Zagato La Sabri Brava Amido preziosi Perché non può Comandare Amido preziosi Vi linko Una piccola frase Lei è diventato mio Per il signor Fumagalli No Non era così Quindi lei mi sta dicendo Che è da due mesi Che non ci vede E dice Fumagalli Mamma Che cosa ci fai qua Ti è cresciuta la barba E Gli occhi Non mi ricordo Vabbè dice Eh no Non dire Cavolate Fumagalli Metta questi E dice Ora cosa vede C'era un Un cartello No con un 3 Ha detto Un coglione Con un cartello E Dice No Non è un cartello E poi dice È un 3 Non è che sono Non è che sono scaduti Non è che sono scaduti E dice Lei è diventato mio Perché sono sempre stato Fumagalli Nel senso che Non vede più Cazzo da due mesi E meno male Non mi piacciono i cazzi Lei non capisce niente Non ho capito Vede Gli ho detto di no Bene Questo era il video Se vi è piaciuto un bel Poi in su Commentate Iscrivetevi Non mi piacciono i cazzi